Musica Quella notte quando la nostra scuola è rimasta ferita. Un po' preoccupata perché pensavo che non ci sarei più andata, è successo così, ma per fortuna ci hanno preso in una nuova scuola, nella scuola di Bondeno, che ci siamo ritrovati tutti vicino alla scuola. Cioè è stato il momento più brutto della mia vita perché è proprio un ladro il terremoto. Mi ha fatto tante cose, adesso c'è la scuola vecchia, era proprio un posto magnifico, anche questa adesso è bella, però proprio quella non si potrà mai sostituire. Era proprio l'ideale per noi. Una nuova scuola nella luce. Questa è molto bella, piena di luce, tante finestre, guardar fuori e vedere tutti gli alberi, la natura, intorno a te è bello. I tesori della terra di pilastri, quando la storia è sotto ai nostri piedi. Mi aspetto che venga a fare un capolavoro, che trovino delle cose antiche, degli oggetti, degli antichi cortelli. Abbiamo iniziato a dire che qua sotto c'erano degli aperti molto importanti, risalenti all'età del bronzo, e dopo ne abbiamo anche iniziato un po' a parlare proprio di tutte queste cose. E dopo così, io spero dai nuovi scavi, dagli scavi che ritrovino delle tracce. È una tazzina che abbiamo riprodotto, che si trovavano anche nelle antiche città, proprio per bere, per tenerci dentro semi e così. Allora, con il dash, si è fatto proprio un serpentello, poi si è arrotolato su se stesso e formando una tazza, un contenitore. Al salone del restauro a Ferrara, con le parole dei nostri amici. Quando hanno demolito la nostra aula, sono cadute le scale e si è formato un grosso buco nella scuola. C'era tanta gente, perché era molto vecchia e molte persone erano andate a scuola lì. Stavano abbattendo la mia classe, dove avevo imparato a parlare italiano, così sono andata subito via con il dispiacere. Quando sono tornata a casa, di sera, e ho visto il camion dei vigili del fuoco e un ucchio di macerie al posto della mia scuola, ho provato un'immensa tristezza. Quando ho visto la scuola abbattuta, mi è dispiaciuto e mi stavo mettendo a piangere, cosa che mia mamma e mia sorella hanno fatto, perché anche loro sono andati a scuola lì. Quando sono tornata a casa, avevo i lacrimoni, perché in quella scuola ho imparato a scrivere, leggere, fare le operazioni, ho cantato, recitato, disegnato. La nuova scuola sorge su un terreno archeologico, nel quale ci sono certamente reperti appartenuti al popolo terramaricolo. Nel 1989 sono già stati ritrovati resti appartenuti a quell'epoca, nei terreni circostanti. Museo Civico Ferraresi di Stellata, dove sono conservati i reperti degli scavi effettuati a pilastri nel 1989. C'erano palafitte e in ogni palafitta una botola, dove vennevano gettati i rifiuti. Quando lo spazio sottostante era pieno, gli abitanti bruciavano le cappanne e ne costruivano di nuove. I resti delle cappanne bruciate e i rifiuti rendevano fertile il terreno, da cui il nome Terra Mara. I nostri antenati erano agricoltori e allevatori. Sapevano fondere metalli, costruivano armi e attrezzi per il lavoro e plasmavano l'argilla per farne contenitore. Erano cazzatori, ma lavoravano anche la canapa per fare le corde e le corna dei cervi per fare agghi e petti. Bruzzavano dei frutti e le conservavano le ceneri in vasi chiusi. Intrattenevano scambi con i popoli vicini, attraverso le vie d'acqua, fiumi e paludi. Quando l'archeologia diventa poesia. Sotto la scuola è nascosto un tesoro, non è d'argento e nemmeno d'oro. È fatto di sassi, di pietre e di cocci, che se li pesti a volte ti scocci. Sono i verti, lo dicono i sferti, e con tutte le cose preziose, ben si nascondono, ben si confondono. Si fanno trovare solo da chi, con occhi curiosi e mani leggere, li fa cercare, li sa ascoltare. Così ti raccontano le storie di un tempo lontano, lontano, di quando noi lo non c'eravamo. Niente male! Caro Alex, ora si fa sul serio, perché dei veri archeologi scaveranno la ricerca di tracce, che ci racconteranno il passato. Un forte abbraccio ai tuoi amici. Grazie. 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 Grazie.